Dal consigliere regionale Corrado Matera l'invito all'unità delle forze politiche in regione per esercitare le giuste pressioni sul governo affinché prenda atto dell'errore commesso dei precedenti governi di chiudere il tribunale di sala consiglia accorpandolo al Lago Negro e rimediando con la riapertura. Con una lettera inviata a tutti i capi gruppo in regione l'onorevole Matera invita i singoli consiglieri ad attivarsi ognuno con i propri riferimenti parlamentari o di governo per chiedere la revisione della decisione ora che si sta ipotizzando una rivisitazione della precedente riforma. In un momento quindi di rivalutazione delle scelte definite il presidio di giustizia di sala consiglia avrebbe ottime opportunità di riapertura viste le numerose contraddizioni che emergono in palese disaccordo con le disposizioni della legge delega per la scelta dei tribunali da sopprimere. Nel 2012 era stata decretata la chiusura del tribunale di sala consiglia nonostante la legge delega imponeva accorpamenti nell'ambito provinciale nella stessa Corte d'Appello chiedendo di tener conto di criteri oggettivi come l'estensione e la morfologia del territorio e la situazione infrastrutturale. Inoltre si chiedeva di garantire la presenza di non meno di tre tribunali per Corte d'Appello con la possibilità di un quarto tribunale. Il tribunale di sala consiglina come quarto tribunale poteva quindi essere operativo anche in virtù di un altro criterio previsto nella legge delega e su cui rimarca il consigliere Matera oltre che sugli altri punti in analisi. La legge delega chiedeva di valutare anche l'impatto della criminalità organizzata sui territori. Per Matera le ultime vicende che avrebbero portato ad accertare l'interesse della criminalità sul territorio valdianese impongono una revisione della riforma soprattutto per il tribunale di sala consiglina chiuso come ribadito dal consigliere regionale tegianese in maniera scellerata. Facendo leva sulle diverse anomalie rispetto alla legge delega, Corrado Matera si rivolge a tutti i consiglieri regionali per tramite dei capigruppo affinché si faccia fronte comune nella battaglia per la riapertura del tribunale salese. Da qualche tempo, scrive Matera, segue l'incresciosa vicenda della soppressione del tribunale di sala consiglina. Noti sono i disservizi e le criticità generate da una scelta politica scellerata che ha privato il territorio di un importante presidio di giustizia. Dopo essermi confrontato con il presidente De Luca, il presidente del Comitato Nazionale per la Giustizia di Prossimità, l'avvocato a Newsday, spiega il consigliere regionale, e in accordo con le iniziative promosse dai colleghi delle regioni Marche e Abruzzo, ho provveduto a depositare presso il consiglio regionale una proposta di legge alle Camere affinché il Governo e il Parlamento possano rivedere la geografia giudiziaria per ridare dignità ad una comunità ingiustamente bistrattata. Da qui l'invito rivolto ai colleghi consiglieri a voler sostenere, scrive Corrado Matera nella lettera, la proposta di legge è già assegnata alla prima commissione permanente e sensibilizzare i rappresentanti istituzionali in seno al Parlamento affinché possano impegnarsi tutti per adottare la modifica legislativa utile a ridare speranze e futuro ad un territorio che immotivatamente è stato mortificato.